Grazie Presidente per consegnare il voto a fuori del Movimento 5 Stelle rispetto a questi due premi e emendamenti che tratterò in maniera congiunta perché vanno a completare quello che è comunque da parte del lavoro che è stato fatto nel Pums attraverso il percorso partecipato per cui come ricordava il consigliere Ferrara il decimo municipio negli anni è stato escluso perché ha subito tutta una serie di provvedimenti amministrativi che lo hanno in qualche maniera messo un po' a lato mentre invece appunto nel Pums il percorso partecipativo ha definito una proposta strutturata definita appunto BC Plan che è fondamentalmente una rete infrastrutturale ciclabile che noi definiamo portante alla quale si dovranno si spera innestare tutte le maglie secondarie appunto all'interno dei tessuti ciclabili di ogni municipio. Nella proposta così come è pervenuta appunto da parte dei consiglieri Angelucci, Ferrara e Penna non stiamo parlando dei rami appunto di ciclabili secondari, stiamo parlando comunque in ogni caso di rete portante ed è per questo appunto che ringraziamo il lavoro svolto da parte dei tre consiglieri perché va a implementare comunque verso Ostia una infrastruttura che ne ha necessità. Grazie.